. Ricky e Morandi, botta e risposta su social, nuova collaborazione?. Riccardo Marcuzzo e Gianni Morandi, scambio di complimenti, cosa bolle in pentola?. È bastata soltanto una foto insieme a scatenare il delirio delle fan su Instagram, Gianni Morandi ha infatti caricato poche ore fa una foto insieme a Ricky, e gli ha scritto anche una breve dedica. . L'immagine, scattata nel backstage del Battiti Live, mostra infatti Gianni insieme a Riccardo Marcuzzo, felici e soddisfatti di essersi esibiti sopra il palco. . Inoltre, Morandi ha scritto sotto lo scatto che Ricky è l'idolo dei giovanissimi, e, richiamando il suo singolo cantato insieme a Fabio Rovazzi, ha aggiunto che lo fa letteralmente volare. Pochi minuti dopo, il cantante di Amici ha voluto rispondere con un commento proprio sotto la foto caricata da Gianni Morandi, scrivendogli delle parole di ammirazione nei suoi confronti. . Precisamente, Ricky ha affermato che quando Gianni è arrivato al concerto è riuscito a catalizzare tutte attenzioni su di lui, e, senza alcun dubbio, ha aggiunto che lui è la storia della nostra musica. . Gianni Morandi elogia Ricky e lui ricambia, collaborazione in arrivo?. . . Inoltre, Riccardo Marcuzzo ha precisato che la cosa che più lo ha stupito è stata la sua energia e la sua voglia di fare e di mettersi in gioco, che superano di gran lunga il nome che porta. . Ricci ha voluto infine concludere dicendo che proprio da ciò che ha dimostrato sul palco dei suoi live si capiscono tante cose, in cui è sempre apparso sorridente e sempre in movimento. . 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